Benvenuti a CookLife, ciao Simona, ciao Antonella e benvenuti a tutti i nostri appassionati del benessere. CookLife è un angolo dedicato al benessere, al mangiar sano, però mantenendo la perfetta forma fisica. Sì, CookLife fa parte di un progetto molto più ampio all'interno del quale potrete trovare dei programmi sia per chi vuole perdere peso, per chi vuole mantenere la propria forma fisica o magari per chi vuole più energia. CookLife ogni settimana vi darà una ricetta fatta con i prodotti Herbalife, una ricetta sana e equilibrata per mantenere la forma fisica ideale. E adesso vediamo la ricetta. Buongiorno Antonella e Simona, oggi siete qui nella mia cucina perché ho preparato una ricetta deliziosa per voi, si chiama Moussaka rivisitata. Quello che ci serve è una patata lessa, un po' di zucca, della carne macinata e poi avremo un ingrediente segreto. Andiamo a fare un primo strato con questa patata, il secondo strato sarà fatto con la carne macinata della nostra Moussaka e per finire il nostro strato prenderemo la nostra zucca. La zucca è stata tagliata a fettine e poi io ho insaporito con la menta e poi della curcuma, che a me piacciono molto le spezie. Anche nella carne macinata, nella goulite, per esempio ho messo la paprika dolce. Per finire tutto il nostro procedimento andiamo a mettere il nostro ingrediente segreto, la salsa di pomodoro Herbalife. Va a dare gusto, ovviamente il pomodoro sarà ancora più piacevole al palato e poi la cosa più bella è che aumenterete l'apporto proteico. E siamo pronti per andare ad infornare 180 gradi nel forno per 10 minuti. Quindi vi saluto, grazie, cotto e mangiato. Ciao! Avete visto come si può mangiare sano rimanendo in forma con i prodotti Herbalife, ma dietro a tutto questo c'è molto di più, vero Pippo? Sì Simona, è vero. La nostra azienda possiede una vasta gamma di integratori che sono in grado di fornire tutti i nutrienti per raggiungere l'aspetto fisico desiderato. Dietro a tutto questo c'è un grande progetto, il progetto di B1 Team per chi vuole semplicemente un reddito extra senza lasciare il proprio lavoro o per chi invece vuole una libertà finanziaria. Se volete far parte del team B1 Team chiamate al numero 389 34 15024. Cook Life, cucinare sano rimanendo in forma si può con Herbalife.